Prepara sorbetti fatti in casa con sorbetto poldo. Per assemblarlo ed utilizzarlo, inserisci l'inserto sorbetto poldo all'interno del corpo centrale. Avvita il manico e il beccuccio. Prendi la base ed inserisci il corpo centrale. Posizionalo su una superficie liscia e gira l'anello fissatore. In questo modo la ventosa aderirà saldamente sul piano di lavoro. Per separare la base dall'inserto centrale, gira l'anello in posizione aperta e spingilo dalla parte posteriore. Prigiona la tua fantasia e usa la frutta che preferisci per dei sorbetti dolci o usa la verdura per crearne di salati. Facile e divertente, versa gli ingredienti congelati nel grande imbuto, gira e gusta. Se il video ti è piaciuto iscriviti al canale, attiva la campanella. Metti mi piace, lascia un commento e condividi.